ciao a tutti ragazzi allora abbiamo fatto la modifica al gomino hop up abbiamo incrementato la potenza perché sistemando il gomino hop up siamo riusciti anche ad avere quel filo di potenza in più ora sto provando degli 020 guardiamo qui dal cronografo 0,94 0,95 colpo singolo 0,97 quasi pilotaul con la latta adesso andiamo a vedere la prova di tiro ok ora ho messo pallini da 25 nel caricatore e vediamo alla distanza di 50 metri ok adesso sicuramente senza morsa e tant'altro si fa un po' fatica per soprattutto con i suoi tacchi di mira normali personalmente faccio più fatica preferisco il red dot comunque perfetto tiro bello pulito diretto adesso direi proprio che ci siamo facciamo una prova un'ulteriore prova a 40 metri di distanza quindi ci siamo avvicinati 10 metri al bersaglio che poi è diciamo così il tiro utile anche in una giocata poi fondamentalmente beh direi che è perfetto 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 Grazie a tutti.